La mia risposta è già fatto, nel senso che avevo già predisposto tutto quanto, dimostrazione che quando dico una cosa io gli impegni li mantengo sempre. Risponde così il sindaco di Fano Massimo Seri alla lettera del comitato Io firmo per la salute. Le forze politiche locali che si battono per un referendum sulla sanità avevano chiesto al primo cittadino di passare ai fatti, dopo le parole e gli impegni presi. La delibera che andrebbe a modificare lo statuto è stata già approvata in giunta e verrà presentata all'attenzione del prossimo Consiglio Comunale. Questa permetterà di svolgere il referendum fino al 31 ottobre e non più entro il 15 settembre, permettendo così un tempo maggiore per la campagna elettorale. I 5 Stelle però sottolineano che è stata portata una modifica sul fatto che dal 1 gennaio 2017 i referendum potranno essere associati alle altre consultazioni politiche, portando un risparmio di 60.000 euro. Di conseguenza quella sulla sanità verrà esclusa e i 5 Stelle annunciano battaglia presentando un emendamento. La proposta che ho fatto io è quella di estenderlo fino alla fine di ottobre e anticiparlo da marzo. Quindi il periodo sarà marzo-ottobre. Durante la consueta conferenza stampa del venerdì con i giornalisti, Seri ha espresso anche soddisfazione per la decisione presa ieri dal Consiglio Comunale che ha votato sì alla fusione delle due Aset. Sarà dunque Aset Spa ad incorporare la holding. Per il Partito Democratico questo atto ha un doppio valore, quello di un risparmio sulle bollette e la qualità dei servizi e uno di carattere politico. Sulla fusione infatti si è allineato anche gran parte del centrodestra. Hanno votato contro Mirisolla di Forza Italia, Severi di Unicità, Pierpaoli di Fano, Città Ideale e i consiglieri del Movimento 5 Stelle. Ieri è stato approvato un atto importante, un'altra bandierina che mettiamo sul nostro programma, la derivata di indirizzo per la fusione di Aset, che in realtà è un indirizzo ma è un'azione concreta perché seguiranno degli atti concreti.